Francesco, chi sono i padri? Allora, i padri sono, diciamo, la nostra identità, la nostra origine e quindi la terra dei padri è, diciamo, il nostro diritto di avere un luogo di origine, quindi la terra dei padri è la terra del poeta. Le poesie, appunto, scandiscono un fatto poco documentato che è la deportazione di tantissimi civili nei primi anni di occupazione italiana in Libia. Sì, anche per me è stata un po' una sorpresa trovare queste poesie, diciamo, sapevo della storia coloniale italiana, però è stata una sorpresa, mi hanno molto emozionato e quindi, diciamo, ho voluto anche creare questo corto per cercare di diffondere queste poesie, questa parte di storia che è stata riconosciuta ufficialmente dall'Italia nel 2008, ma è ancora un fatto molto di cui si parla poco, soprattutto questa deportazione, magari si parlano di altri capitoli del colonialismo, ma di questo no. Dove ti ha condotto questo viaggio via mare e via terra? Mi ha condotto a conoscere diverse persone, anzi ne approfitto per ringraziare l'attore Justri, che, diciamo, l'ho veramente contattato un po' a caso, di fortuna, e mi ha aiutato tantissimo. Ho contattato anche il giornalista che aveva scritto di questo poeta, tramite, soprattutto l'attore, ho conosciuto Ziate Trebelsi, che è il musicista, quindi, diciamo, sono stato guidato, io essendo italiano comunque dovevo entrare in questa cultura, capire molte cose da principio, e quindi sono stato guidato da queste persone che mi hanno anche aiutato a capire, a creare un racconto comunque coerente con magari una cultura diversa dalla mia. e quindi, devo dire, è stato un viaggio emozionante tramite le immagini, i suoni, le musiche, ma mi è piaciuto perché mi ha fatto proprio conoscere cose, quindi è stato un bel viaggio, diciamo, alla fine, in questo corto. Se tu potessi descrivere l'Ischia Film Festival con una sola parola, quale sarebbe? Vita, non lo so, vedo tanta natura intorno a me, vedo tanto movimento, ma anche tranquillità, quindi vitalità.